Se ne parla poco e con vergogna, come se il silenzio potesse celare il disagio per i pregiudizi degli altri nei confronti di una specifica disabilità che risponde al nome di autismo. C'è chi invece, come Enrico Mignolo, professionista, ex presidente dell'associazione Io Autentico, ma soprattutto papà di Giovanni, un bambino di 13 anni affetto dal disturbo dello spettro autistico, preferisce affrontare l'argomento, perché parlarne è la prima azione per contribuire allo sviluppo della cultura alla disabilità. L'impatto con la diagnosi è stato duro, è stato uno schiaffo, è stata una sberla, perché ti si smonta un po' quell'immagine, quella prospettiva di vita che avevi ipotizzato per la tua famiglia. Però poi ci si abitua e si affronta, quindi dipende anche dalla mentalità, dalla concezione, da come riescono a farti digerire l'impatto con una diagnosi di questo tipo. Occorre consapevolezza, coraggio e impegno, tra prove e fallimenti, per accompagnare una persona autistica a conquistare l'autodeterminazione. Le sfide sono quelle di riuscire a farlo considerare persona, anche se è una persona con autismo. Sono nella quotidianità più spicciola riuscire a vestirsi correttamente, riuscire a comunicare in un qualsiasi modo, riuscire a partecipare alle attività della comunità per essere considerato valore, risorsa all'interno dei gruppi sociali in cui partecipa. Per combattere l'isolamento si adottano tutte le possibili strategie di comunicazione. Giovanni è un bambino non verbale, che ha acquisito delle competenze logopediche molto tardi, una caratteristica abbastanza tipica nell'autismo severo. Abbiamo iniziato ad introdurre la lingua dei segni, quella dei sordi, che col tempo ha consentito a Giovanni di sviluppare delle capacità di produzione vocale, perché qualche parola la dice, qualche frase la dice per comunicare le sue necessità, ma anche per comunicare i suoi stati d'animo. Lui attualmente utilizza il sistema della comunicazione aumentativa alternativa attraverso dei pecs, delle immagini per comunicare, oppure un comunicatore elettronico su un tablet. Acquisire la capacità di esprimersi e avere la possibilità di sentirsi coinvolti può aprire la strada verso l'integrazione sociale. Principalmente siamo noi familiari, quindi io, mia moglie e i suoi due fratelli, a spingerlo verso qualsiasi tipo di esperienza ricreativa, sportiva, di frequentazione e di partecipazione in ogni contesto. Però col tempo, anche grazie alle attività che ha portato avanti l'associazione di cui facciamo parte, siamo riusciti a coinvolgere in maniera più ampia i contesti. Quindi, ad esempio, Giovanni quando va al bar sa comunicare, gli altri sanno comprenderlo. È una questione di esperienza non solo per le persone con autismo, ma soprattutto dei contesti in cui le persone con autismo scelgono, per interesse della famiglia, di partecipare. Se la famiglia resta la risorsa principale per gestire le esigenze specifiche di Giovanni, è innegabile che serve anche il supporto da parte di un sistema articolato, di cui fanno parte istituzioni, agenzie educative, figure professionali, operatori sociali. I servizi che abbiamo trovato sono stati quelli che siamo riusciti, come dire, un po' a guadagnarci, quasi strappandoli dagli enti pubblici. Attualmente lui è seguito con un servizio di assistenza domiciliare, quindi di prossimità con un educatore. E dal punto di vista sanitario abbiamo la terapia cognitivo-comportamentale e le sedute di logopetia. Una persona autistica non è esclusivamente una persona da assistere. È capace di dare un contributo alla comunità in linea con le proprie inclinazioni. Le persone con autismo sono considerate, anche forse per colpa di alcune famiglie, di una poca consapevolezza da parte delle famiglie e di alcune associazioni, sono considerate delle persone solamente da accudire. Io mi aspetto qualcosa da mio figlio, noi ci aspettiamo qualcosa da nostro figlio. Spereremmo che queste aspettative le abbia anche la comunità, la società, il contesto sociale in cui lui vuole partecipare. A noi interessa che lui sia sereno, che lui sia orgoglioso di se stesso, che sia soddisfatto. E questo significa essere contento degli obiettivi che lui stesso si pone. E' logico che quando una persona diventa grande sarà per lui interessante capire qual è la strada che può seguire. Un coinvolgimento in un'attività lavorativa, la gestione del suo tempo libero, delle relazioni, delle sue amicizie. Non solo con persone con autismo, ma anche con persone senza autismo. Un po' la vita di tutti noi. L'esperienza personale di Enrico Mignolo detta le parole per formulare un messaggio da rivolgere agli altri genitori che si ritrovano ad affrontare una situazione simile. Si cammina insieme al dolore dell'impatto con la diagnosi, ma poi la vita non è la diagnosi di autismo. La vita è la persona che hai a fianco, la persona con cui tu stesso genitore cresci. E quindi affrontarla come un percorso che è sicuramente differente rispetto a quello di tanti altri, ma non è meno gratificante. Comunità ancora impreparata, istituzioni inadempienti sui progetti a favore dei disabili non alleviano le problematiche di queste famiglie e non favoriscono l'inclusione sociale dei disabili. Gli enti pubblici hanno il dovere di supportare ogni persona perché le aspettative di questa persona siano rispettate prima di tutto e siano portate avanti dalla comunità. C'è bisogno di una maggiore attenzione, non sui singoli progetti, ma veramente sulle necessità delle persone con disabilità, che attualmente sono emarginate, non per colpa della loro disabilità, ma per colpa di una incapacità dei contesti, di qualsiasi contesto organizzato sociale, ad accoglierli, ma non solo ad accoglierli, a farli partecipare attivamente. Un richiamo di responsabilità lo indirizza all'azienda sanitaria provinciale tenuta a valutare le esigenze dei singoli individui. Il rapporto con gli enti è stato molto burrascoso per una mancanza di volontà di ascoltare le necessità delle famiglie, di persone con autismo che hanno il limite di non riuscire a comunicare adeguatamente le proprie necessità. Non c'è stata la volontà, secondo me, di supportare determinate categorie di persone come quelle con disabilità, soprattutto come quelle con autismo. Nel progetto di vita sono coinvolti un insieme di enti in termini di responsabilità. Da questo punto di vista, nell'erogazione dei sostegni dei progetti di vita, l'azienda sanitaria è rimasta molto spesso silente. Lo è tuttora, con delle prestazioni che vanno a singhiozzo, quelle in erogazione diretta, e che non possono riguardare solo la presenza di centri autismo, ma anche servizi ambulatoriali che siano distribuiti sul territorio e che non siano standardizzati per le persone con autismo. Perché ogni persona con autismo ha differenti necessità, di numero di ore di prestazioni sanitarie, quindi di terapia, che non può andare, ad esempio, per fascia d'età, ma deve andare per caratteristiche di valutazione delle necessità della singola persona. Il 2 aprile, giornata dedicata alla consapevolezza sull'autismo, sarà un'occasione per sollecitare le menti ad avvicinarsi ad un mondo ancora troppo recondito. Le giornate di questo tipo servono a coinvolgere di più le persone, al pensiero che le persone con disabilità e le persone con autismo possono fare, non sono quelli che non possono, devono fare, perché devono partecipare. Anch'essi sono cittadini, anch'essi non hanno solo dei diritti, hanno anche dei doveri nei confronti della loro comunità. e se noi non li rendiamo capaci di concepire questa necessità della comunità, le nostre comunità saranno standard e invece la diversità è veramente una ricchezza.